abbiamo effettuato l'innesco abbiamo fatto un terminale 40 metri con gorilla oc4 per terminale del 50 girella tb 120 ss la 180 libere e poi abbiamo il 62 per un tre metri allora è venuto fuori il punto questa canna qui la piazzeremo a mezz'acqua con due piombi distanziati l'uno dall'altro di una decina una decina di braccia quindi partiremo con un 300 e faremo la spezzata grazie 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 grazie